Oggi voglio fare qualcosa di diverso, qualcosa di serio per una volta, che comunque non è neanche la prima volta, scusate la ripetizione, che tratto un argomento così delicato sul mio canale, perché è subito dopo, il giorno dopo, Italia-Belgio, del novembre, non mi ricordo esattamente il giorno, ma di quel giorno di novembre, in cui è cambiata praticamente tutta la storia. Ricorderete il Bataclan, ricorderete gli attacchi terroristici a Parigi, ricorderete le rivendicazioni ISIS, ricorderete la paura, ricorderete quel senso di oppressione, di inutilità generale da parte di ognuno di noi, perché non possiamo fare nulla per cambiarlo e ieri sera, ancora una volta, ci siamo trovati di fronte ad un atto di totale brutalità, perché all'aeroporto di Istanbul, in Turchia, c'è stato un altro attentato, dove hanno perso la vita altre 36 persone. Ecco, come ricondurre questa cosa all'argomento principale del mio canale, che è comunque il gioco del calcio? Come sapete sono stato a Parigi, come sapete sono andato a vederli europei, e non so se lo sapete, ma sì, ho avuto paura, tanta paura, perché l'alarma e terrorismo era alto, soprattutto a Parigi, dato che, comunque, da quel che abbiamo capito, l'ISIS odia l'Occidente, e vede proprio in Parigi, proprio nella Francia, il più alto punto di infedeltà, perché, comunque, all'interno di Parigi ci sono tantissime persone di colore, come possono essere anche all'interno dell'Inghilterra, ma puramente che nascono musulmane, che hanno radici musulmane, e che sono riuscite a convertirsi, o anche convertire il loro stile di vita a quello che è lo stile di vita occidentale. Ecco, io ero terrorizzato da questa cosa, quando mi è stato proposto ad andare a Parigi, ero sì carichissimo, perché, cavolo, quando mi ricapita un'occasione del genere di seguire Nazionale Italiana, di un progetto lavorativo così importante, dato che è quello che ho sempre cercato, quello che ho sempre sperato potesse arrivare da YouTube, e finalmente mi è arrivato. Mi sono ritrovato davanti alla situazione di dover scegliere, e non è stato facile per me. Alla fine ho detto, sì dai, facciamolo, quando mi ricapita, non posso vivere nel terrore, perché, anche se il mio destino è morire per colpa di un attacco terroristico, muoio anche quando vado al mercato con il mio paese, quando vado a fare la spesa, mentre sono in università, qualsiasi cavolata che mi può venire in mente, può succedere dovunque, sicuramente non solo a Parigi, però già prendergli aerei per me era qualcosa di pericoloso. Sono andato anche in Egitto, come ricorderete, a Marsalam, e anche lì è stato un altro viaggio di puro terrore, per quanto mi riguarda, perché ero convintissimo tutte e due le volte di non tornare a casa, ma il pericolo c'è, il pericolo è concreto. Soprattutto se consideriamo l'aeroporto di Istanbul, da quel che ho capito, è uno dei più sicuri al mondo, perché ha il doppio metal detector. Doppio metal detector. Appena entri, è subito prima di imbarcarti. Quindi vuol dire che, cavolo, com'è possibile? Mi viene a pensare in malafede, mi viene a pensare che qualche dipendente dell'aeroporto fosse in combutta, magari alleato anche lui, iscritto all'ISIS. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, però come puoi evitare un doppio metal detector con delle bombe, con delle armi? È qualcosa di inconcepibile, è qualcosa di vergognoso, una falla di sicurezza atroce. Ed è proprio per questo che vi voglio parlare di Euro 2016. Perché il pericolo terrorismo, ancora una volta, dato che si gioca in Francia, la finale si giocherà a Parigi, a Saint-Denis, dove abbiamo giocato l'altro giorno con la Spagna, e dove il giorno dopo gli attentati, Saint-Denis è stata presa completamente in ostaggio dai terroristi, dove c'è stata l'operazione di polizia, dove sono stati uccisi diversi terroristi, dove Salah è riuscito a scappare. È stato proprio lì, a Saint-Denis, dove c'è lo Stade de France, e dove si giocherà la finale, proprio lì, nel posto che era considerato il nucleo, la matrice, dove è iniziato tutto, di vedere la facilità con cui è stata presa in ostaggio Saint-Denis, mi fa morire da ridere il fatto che possa disputarsi lì la partita. La finale, la finalissima, dove tutti gli occhi del mondo saranno puntati. Io sono terrorizzato da questa cosa. E tra l'altro abbiamo visto che magari si è dato tanto impegno per il terrorismo, che poi si erano riusciti a prendere delle serie ma state sotto altri temi, come gli hooligans. Abbiamo visto i tifosi dell'Inghilterra, i tifosi della Russia, che a Marsiglia sono riusciti a distruggersi. Tra l'altro, da quel che ho capito, gli inglesi con Marsiglia è una guerra aperta da anni, e quindi l'organizzazione del torneo è stata pazzesca, perché si sapeva già dal principio che sarebbe accaduto qualcosa di brutto. Eppure non si è fatto niente per evitarlo. E come abbiamo visto, c'è stato del casino, del disordine. Io vi racconto la mia di esperienza. E se devo dire la verità, è tutt'altro che positiva. Perché, d'accordo, aereo, sono arrivato a Bologna, sono partito da Bologna. Mi hanno fatto il controllo, solito, mi hanno chiesto se avevo dei liquidi. Io sono sincero, sono onesto. Ho detto, sì, ho il gel, il sapore, buttati via. Io ho dovuto spendere 40 euro perché li ho comprati là, mi hanno truffato completamente. Ovviamente, però poco male. Un minimo di controllo, non vi dico un controllo accurato, un minimo di controllo c'è stato, con tanto il metal detector, come giusto che sia, come logico che sia. Sono arrivato, sono arrivato, e dopo essermi trasferito a Lione, anzi, a Parigi ci ho visto la prima partita, Francia-Romania, e lì è stato, ci sono stati dei controlli accurati per entrare nella fanzone. La fanzone, per chi non lo sapesse, è praticamente un'area in cui questa fanzone sorgeva di fronte alla Tour Eiffel, dove c'erano dei maxi schermi e degli spazi verdi in cui i tivosi potevano guardare la partita di fronte alla Tour Eiffel, per dire a Parigi. È stato bellissimo, è stato stupendo. E lì ci sono stati dei controlli perché ti hanno perquisito, mi hanno perquisito, non solo a tutti, e quando entravi ti guardavano dentro gli design, insomma, lì c'era dell'organizzazione, infatti sono rimasto stupito perché ci fosse una tal organizzazione per una fanzone. E ho detto, cavolo, allora vuol dire che ci credono davvero? Cioè, più perquisizioni, una per entrare nell'area fanzone e una per entrare effettivamente nella fanzone. Quindi cose serie, cose fatte bene, ma ci sta. Cioè, milioni di persone, no, milioni no, ma migliaia di persone riunite in un unico punto per un unico scopo, che è quello che, tra l'altro, l'Isis e il terrorismo in questo momento odia perché ricordiamoci una strage di bambini che giocava a pallone, che è considerato un gesto estremamente occidentale. Cioè, rasentiamo la follia più totale per loro, noi siamo infedeli perché parliamo di calcio, giochiamo a calcio, ci piace il calcio. E ho detto, cavolo, vuol dire che ci sono, sono preparati, stanno bene. Subito dopo sono andato a Lione, dove ho guardato Italia-Belgio e lì mi sono veramente cadute le braccia perché dentro lo stadio non c'era un metal detector. E di fanzone ho fatto due, una a Parigi e una a Lione. In tutte e due c'è stato il metal detector. Mi sono dovuto togliere la cintura, ho dovuto mettere tutti i miei effetti personali, passati all'interno anche loro di un metal detector, controllati come all'aeroporto. E ho detto, ma guarda, come sono organizzati bene, guarda come hanno fatto le cose bene. Invece assolutamente no. Perché dentro lo stadio, dove c'è una concentrazione di persone ancora maggiore, dove è lì, che ci sono addirittura i giocatori, i calciatori, e lì la gente guarda la partita, accende il canale e vede lo stadio, non vede la fanzone. E lì non ci sono stati controlli. Lì mi hanno detto, apre lo zaino. Io avevo una felpa sopra allo zaino, la prima cosa che aprendo lo zaino vedevi era la felpa. Mi hanno detto, vai avanti. Sotto poteva avere qualsiasi cosa. Una bomba a mano, per dire, non è così grande da dire, poi benissimo non nascondere sotto la felpa, o dentro la felpa. Non me l'hanno neanche fatto estrarre dallo zaino. E ho detto, cavolo. Cavolo, non si può fare una cosa del genere. Metal detector, mai visto uno. Per cui si stiano i tornelli, ma neanche a pagarle. E tra l'altro, adesso vi racconto la chicca, questa qui le batte veramente tutte, ragazzi. Questa qui è la più bella di tutte. Avevo il biglietto nella curva del Belgio, perché 90 Min si era sbagliato ad acquistare il biglietto e me l'aveva acquistato nella curva del Belgio. Lì per lì, ho detto, cavolo, qui mi mena, non mi ammassano, non so cosa fare. E niente, allora parlo con lo Stewart e lui mi dice, guarda, non dovrei dirtelo, ma vai dall'altra parte, fai il giro, vai nella curva dell'Italia, siediti. E io ho detto, ma come? Intanto, come ci arrivo? Fa, guarda, lo stadio è aperto, completamente aperto, fai il giro, lo cerco in Navighi. E lì per risolto, ma sto perplesso. Cioè, io, abituato allo Juventus Stadium, perché quando vado a vedere la partita vado lì, cioè, c'è un'entrata per settore, ci sono dei tornelli, ci sono delle perquisizioni per quanto blande ci sono. insomma, non puoi tu, se entri dalla curva del Belgio, fare il giro e arrivare dalla curva dell'Italia, è impensabile. E invece c'era tutto aperto, lo stadio è tutto aperto, curva, tribuna, curva, tribuna, tutto aperto, lo potevi girare così, potevi girare intorno allo stadio, senza nessun controllo ulteriore, dato che non ce n'era stato neanche uno. Io arrivo, bello come il sole, col mio biglietto della curva del Belgio, faccio il giro, curva dell'Italia, entro, mi siedo in un posto, a caso. Sto lì. Perfetto. Nessuno mi ha detto nulla. Nessuno mai mi ha detto, quello è il mio posto, nessuno mai mi ha detto, tu perché sei qui? Niente di niente. È lasciato puramente l'anarchia, e di Stuart ce n'erano tantissimi, ma il massimo che facevano erano, se uno ti fermava, ti accompagnavano dov'era il tuo posto col biglietto. Dai, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Un evento mediatico così importante, lasciato così al caso, poi io ripeto, questa è la mia esperienza, ma la mia esperienza è tutt'altro che positiva. E adesso che ritorna fuori questo pericolo terrorismo, perché si era un attimo addormentato, ma non era scomparso. Io nel mio cuore vivevo il terrore, anche solo per andare via. Adesso c'è da divertirsi, fra molte virgolette, ovviamente sono ironico, ma non è una cosa incoraggiante. E tra l'altro, da quelli che ho capito, l'esperienza è stata negativa per tutti. C'è tantissime altre persone che sono andate allo stadio, hanno detto le stesse cose. Insomma, ragazzi, diciamo che si poteva fare sicuramente meglio, e si doveva fare sicuramente meglio, perché qui non si scherza, qui parliamo di una cosa veramente seria. E invece negli aeroporti francesi, dato che dopo per tornare a casa ho preso l'aereo a Lione, ci sono stati dei controlli allucinanti. Dei controlli allucinanti. Mi hanno preso le impronte digitali e le hanno inserite in una banca dati per vedere se c'era un confronto, se c'era un match tra le mie e quelle di magari gente che è considerata terrorista. Ecco, lì sono veramente avanti. Ma davvero, all'interno di uno stadio dove gli occhi di tutto il mondo sono puntati, perché anche se gioca per dire l'Islanda, che è la prima nazionale che mi viene in mente ancora all'interno dei quarti, è comunque quella con meno risonanza a livello mediatico, se scoppia lo stadio con dentro l'Islanda, che vabbè, adesso gioca una partita importante con la Francia, voi non avete idea del casino e della pubblicità che si fanno. E quindi io mi auguro che almeno, dato che è andato tutto bene, Gironi, Ottavio è andato tutto bene, grazie a Dio, l'allarme terrorismo non c'è stato. Che per questi quarti di finale, tanto che iniziamo veramente a far sul serio, che si possa incrementare un attimo questa misura di sicurezza e che allo Stade de France a pochi passi da Saint-Denis non succeda veramente niente. Scusate per questi undici minuti e mezzo, ma l'unico modo che ho per parlare di argomenti di attualità che possono essere seri o meno, questo qui è serio, questo qui è veramente serio, ma si ricollega strettamente, direttamente al mondo del calcio. Questo è un argomento di attualità, è successo ieri sera, ve lo carico oggi, un argomento di attualità può essere il risultato della partita, Italia-Spagna, il giorno dopo l'ho riuscito a caricarvi il video perché era un vlog, era un semplice montaggio di nulla praticamente, senza tagli, senza effetti e ho visto che stanno andando, ho visto che vi piacciono, quando parlo vi piaccio e quindi non escludo il fatto di potervene portare sempre più spesso, soprattutto, ripeto, per parlarvi di argomenti di attualità che io considero importanti. Scusate se vi ho rubato 12 minuti mi cade il telefono ma sentivo il dovere di farlo per darvi la mia esperienza di quello che ho visto e di come non sono assolutamente tranquillo. Ciao ragazzi, dritto per dritto.